Ciao a tutti amici miei, ben ritrovati da me Allora, non ho potuto seguire la partita fra Parma e Samp Ho solo visto praticamente adesso gli highlight Perché purtroppo sto facendo trasloco di casa E quindi oggi ero impegnato lì e proprio non potevo Però, ennesima vittoria della Samp che vince per 2-3 in Grimonta E quindi è stata veramente una grande, gran, bella partita Da quello che ho visto, il primo tempo la Samp non è che ha giocato male Ma il Parma è stato superiore, diciamo, è stato molto superiore E ha meritato il vantaggio, diciamo Vantaggio che era di 2-0 Quindi sembrava quasi una partita compromessa Ma nel secondo tempo, poi anche con le istituzioni Quagliarella e Bonazzoli C'è stato il gol di Chabot, poi Quagliarella e Bonazzoli Quindi la Samp che in rimonta vince al Tardini per 3-2 E devo dire, un po' inaspettatamente, visto come era iniziata la partita Però questa è veramente una Samp che sta dimostrando Di avere grinta, di avere carattere E di aver trovato veramente un gioco E sa quello che deve fare in campo Tutto questo merito va a Mr. Ranieri Che compie un ennesimo miracolo della sua strepitosa carriera d'allenatore E riesce a salvare una Samp che all'inizio Diciamolo pure, sembrava una squadra di morti Sembrava una squadra che comunque non avesse niente Per poter combattere in Serie A Invece adesso ha ritrovato Veramente ha ritrovato proprio tutto Con Ranieri ha ritrovato tutto E sta valorizzando veramente i giocatori Comunque li sta facendo tirare fuori il meglio di sé Quagliarella non aveva bisogno di tirare fuori il meglio di sé Ma è stato capace di comunque Gente come Torsby Veramente di valorizzarlo al massimo E fargli esprimere al meglio quello che sa fare Gente come Bonazzoli Che sembrava magari Una giovane promessa E basta O come dire Un fuoco di paglia Invece poi alla fine Bonazzoli sta dimostrando Veramente Nel suo periodo migliore E il suo sesto gol E quindi Sicuramente è tra gli attaccanti più in forma del campionato E sta E secondo me può veramente fare grandi cose Per il futuro Spero che comunque la società ovviamente non sia già lì Pronta a vendere il cartellino Col cartellino in mano E a fare il mercato in uscita Comunque sono contentissimo per questa vittoria Perché possiamo dirlo Possiamo dirlo Siamo salvi Non rischiamo Siamo salvi Anche perché oggi In questo momento stanno giocando Genoa-Lecce Vince il Genoa per 1-0 Quindi Lecce così rimarrebbe a 29 punti Noi siamo a 41 Siamo a 12 punti Siamo salvi La Benedetta quota 40 L'abbiamo Ormai ci siamo arrivati E quindi siamo salvi Con questa vittoria abbiamo Siamo sopra squadre come Udinese Fiorentina E abbiamo superato lo stesso Parma Battendolo Quindi Siamo messi veramente bene E siamo a ridosso di altre squadre Che sono a 44-45 punti Quindi veramente la Samp Se secondo me avesse avuto prima Mister Ranieri Magari già dall'inizio stagione Con tutta la preparazione E chissà che Ranieri Non avrebbe fatto un miracolo Non dico come Lei sta a vincere lo scudetto Ma magari Vedendo a come sta giocando la Samp Magari un posticino in Europa Ci poteva anche stare Questo non lo sapremo mai Però per come sta giocando Veramente la Samp Sta esprimendo il meglio di sé Ranieri Veramente Complimenti 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 A Mister Ranieri Che io Già lo volevo anni fa Lo volevo tantissimo anni fa Finalmente è arrivato E' arrivato nel momento più difficile Forse che poteva prendere la Samp Perché era ultima Quando ha preso la Samp Era ultima in classifica Quindi sembrava una Samp Spacciata Ma lui compie l'ennesimo miracolo Senza Senza avendogli fatto un mercato Di riparazione Praticamente La Samp Il mercato di riparazione Non ha fatto grandi cose E quindi lui Con quello che ha avuto E' riuscito a dare fuori Mi disse Io faccio ancora Complimenti a Ranieri Perché sono contentissimo Perché è un grande allenatore Veramente Un grande allenatore E sono molto contento Perché finalmente Siamo salvi A cinque giornate Dalla fine Anzi Quattro giornate Dalla fine Possiamo dirlo Ormai siamo salvi E niente Detto questo Mi dispiace Non aver seguito La partita Ma ero troppo impegnato E Però Diciamo che Ormai io Sono quasi a posto E niente Adesso ci godiamo Le altre partite Mi sto guardando Genoa Lecce In questo momento C'è il Genoa Che vince 1-0 Lecce sta attaccando Ha sbagliato Un rigore mancoso Quindi Questo è Uno spareggio salvezza Adesso Ci provo a saponare Uno spareggio salvezza Ma devo dire Che io alla fine Sono anche contento così Forse andrò Un po' controcorrente Ma Secondo me Il derby di Genoa Deve rimanere in Serie A Poi E' giusto Che ci sia la rivalità E io Voglio Voglio arrivare Sempre Prima Davanti Ai nostri cugini E soprattutto Voglio vincere i derby Cosa che Negli ultimi anni Ci sta riuscendo Praticamente sempre Però Voglio comunque Un Genoa in Serie A Perché ci sia Il derby Detto questo Forza Samp Commentate Condividete Iscrivete al canale Un saluto da Jumpy Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti